Sempre più sicure, sfiziose, versatili e multimediali, le utilitarie restano saldamente in testa alle classifiche di vendita. Ecco un confronto a sei fra le più interessanti 4 metri. Sono la Citroen C3 1.2 B-Fuel a benzina e a GPL, la Ford Fiesta 1100, la Mazda 2 1.5 X-Heed, l'unica a quattro cilindri, la Peugeot 208 con lo stesso 1.2 B-Fuel che equipaggia la Citroen, la collaudata Renault Clio col 900 tricilindrico a benzina e a GPL e la nuovissima Volkswagen Polo 1000 TSI. Ben riconoscibile per il tetto colorato a contrasto, la Citroen C3 si guida con grande facilità. L'abitacolo è arioso, originale la plancia incorniciata da uno spesso profilo rosso. Grande e completo il cruscotto a lancette, corredato di un display LCD. Ampi e morbidi, ma poco sagomati, i sedili non trattengono tanto. Piatto anche il divano, la seduta, bassa, fa stare con le ginocchia contratte. Capiente il baule, penalizzato dalla soglia più alta del lotto. La C3 sembra più grossa delle rivali, ma in realtà è leggera, godibile e piacevolmente agile. Le sospensioni morbide garantiscono un ottimo comfort, ma innescano qualche oscillazione se non si impugna saldamente il volante. Il 1.2 a tre cilindri non vibra tanto e ha una erogazione progressiva, anche se priva di verbo. A gas come a benzina riprende senza strappi da regimi molto bassi, ma diventa pieno solo dopo i 2.500 giri. Insistendo arriva a 6.500, quando interviene il limitatore. La Fiesta si adatta benissimo alla guida con piglio sportivo sulle strade più tortuose. Rivoluzionata rispetto a quella del vecchio modello, la plancia ha forme moderne e inserti lucidi. La vecchia strumentazione a binocolo lascia il posto a un cruscotto tradizionale, sempre a lancelli. Avvolgenti ed eleganti i sedili. Sul divano, piuttosto alto, i più lunghi sfiorano il soffitto con la testa. Il baule ha la bocca di accesso stretta, ma la soglia bassa. Più percepibile fuori che nell'abitacolo, la voce del motore, che ha una erogazione pigra ai bassi regini. Corposa e medi, ma non tanto grintosa in allungo. Nella guida si apprezza lo sterzo rotondo e ben calibrato, ma non leggerissimo, che permette di gestire le traiettorie con precisione. Le sospensioni ben tarate e la notevole silenziosità di marcia garantiscono un ottimo comfort. Quando si arriva al limite, è gradevole e redditizia la tendenza a chiudere le traiettorie con la coda. Caratterizzata da un'inconfondibile mascherina, la Mazda 2 offre un'impostazione di guida quasi sportiva. Nell'abitacolo, non tanto arioso, la plancia ha un disegno poco appariscente. Il cruscotto, dal look motociclistico, è privo del termometro dell'acqua. Eleganti i sedili, rivestiti in pelle e tessuto scamosciato. Sul divano si sta stretti e c'è poco spazio sopra la testa. Invitata alla capienza del baule, non ben sfruttabile. Leggerissima, facile e comunicativa, l'utilitaria giapponese ha suo agio su qualsiasi percorso ed equilibrata di sterzo. Non troppo diretto, né troppo leggero. Il quattro cilindri è brillante, ma bisogna tenerlo su di giri per farlo rendere al meglio. Ai bassi regimi non strappa, ma manca di brio e spinge bene solo da 3.500 a 6.600 giri. Piuttosto rigida di sospensioni, la 2 saltella più delle rivali sui fondi sconnessi, ma raramente si scompone. Ben manovrabile il cambio, dotato di marce decisamente lunghe. Superfici lucide e profili cromati vivacizzano la 208 dalla fisionomia inconfondibile. L'abitacolo sembra quello di una vettura di classe superiore, arioso, ben rifinito e con una plancia originale. Completo ed elegante, il cruscotto è disposto in alto. Con i loro fianchetti pronunciati, i sedili contengono bene. Il divano è morbido e ospitale anche al centro. Limitato in altezza il baule, la cui capienza supera il metro cubo con lo schienale reclinato. Lento nel realinearsi e sensibile, anche per via delle sospensioni morbide, lo sterzo è pesante e non sempre preciso negli inserimenti in curva. Specie su fondo irregolare, va impugnato con una certa forza. Apprezzabile è il comfort di marcia, garantito dalle sospensioni morbide e dalla ridotta rumorosità che filtra nell'abitacolo. Anche a causa dei rapporti lunghi, la spinta non è vigorosa. Il 1.2 riprende bene da 2.500 giri, ma non ha un allungo irresistibile. Arriva a 6.500 giri solo in sistema. Soddisfacente è l'equilibrio dinamico della Renault Clio, che sa cavarsela sia nei percorsi più tortuosi, sia sul veloce. Tutt'altro che sfarzosa, la plancia ha un disegno sobrio, più vistosa la console. Originale è il cruscotto, privo del termometro dell'acqua. Elevato il comfort garantito dagli avvolgenti sedili. Altrettanto accogliente, ma meno infossato, il divano. Nel capiente baule, il gradino di 20 cm impedisce di far scorrere i bagagli. La tenuta di strada è penalizzata dalle gomme strette, ma le sospensioni sono bilanciate e i freni potenti, modulabili e mai bruschi. Preciso e progressivo lo sterzo. È fin troppo reattivo in riallineamento, ma permette correzioni efficaci. Pronto nella risposta, il tre cilindri recupera senza strappi già da 2200 giri e si distende, ma senza troppo vigore, fino ai 6400. Davvero bilanciata di sospensioni, la Volkswagen Polo è un piacere da guidare, anche con piglio sportivo. Di notevole effetto l'elegante plancia, occupata in gran parte dal completo cruscotto analogico. Appena infossati, i sedili fasciano bene i fiatri, dietro si sta ancora più bassi e il tunnel ingombrante infastidisce. Abbondante la capienza del baule, l'unico dell'otto, con il pavimento regolante. Fra le perle dell'utilitaria tedesca c'è il motore. Notevole il brio anche ai bassi rigiri, quando da soli 1500 giri spinge con la forza di un diesel. Peccato che l'allungo non sia altrettanto brillante. Le gomme di serie risultano un po' sottodimensionate, la tenuta laterale ne soffre. Silenziosa, a velocità costante, la Polo conta anche su sospensioni non troppo rigide. Pur non essendo dei più pronti, lo sterzo è equilibrato e millimetrico nelle correzioni. Piacevole l'agilità nei percorsi stretti e sempre disinvolta la marcia nei centri urbani. Al limite, il posteriore si alleggerisce e parte per la tangente quando si toglie il gas. La Polo offre prestazioni superiori a quelle degli rivali, sia in velocità massima, sfiora i 190 effettivi, sia in accelerazione. L'unica che può avvicinarla è la leggerissima Mazda 2, più tranquille le tre francesi B-Fuel. L'ottimo rendimento del motore dell'Apolo viene confermato anche dai consumi più bassi di quelli delle rivali. Grazie pure alle gomme più grandi, la C3 brilla in frenata, mentre la Mazda 2 accusa spazi di arresto molto più lunghi.